Caselle torinese, doppi ingressi o da via Gonella o da via Guibert, proponiamo appartamento piano terra, inferriate al piano, cortile di proprietà, comodo per poter mangiare fuori nei periodi estivi, ingresso in sala, due camere, una cameretta che è questa con esposizione sul cortile, utilizzata anche come cabina armadio o studio, tutti gli infissi sono scorrevoli, l'appartamento è stato completamente ristrutturato, essendo un piano terra è stato rifatto completamente anche il Vespaio, camera da letto, il bagno, troviamo un bagno con ventilazione forzata, comodo, e poi dalla sala accediamo alla cucina dove al fondo ci troviamo in un ripostiglio dove è stato creato un ambiente lavanderia con il locale caldaia, importante le spese condominiali sono assenti, il riscaldamento è autonomo e l'immobile è libero subito e questo è quanto.